buongiorno sono luigi dell'orto di lgcam siamo qua oggi in occasione della tappa di ancona di storage selection con bp e greensan nostri partner e oggi siamo qua soprattutto per presentare la novità che abbiamo portato di inter solar che è la batteria resu 10 m è una batteria di nuova generazione dedicata in questo momento al mondo sma è una batteria modulare quindi facilita enormemente l'installazione da parte dell'installatore perché è fatta a moduli e quindi può essere posizionata sul luogo dell'installazione in maniera molto semplice ed è molto compatta molto compatta e quindi trova spazio nell'installazione in qualsiasi situazione può essere installata sia a parete che diciamo a terra e da dieci anni come tutte le batterie resu di lgcam a dieci anni garanzia l'altra novità nel mercato italiano di lgcam per quanto riguarda le resu che sono le nostre batterie residential storage unit quindi batterie dedicate alla installazione residenziale è diciamo qualcuno di voi avrà già avuto modo di avere a che fare il nostro service che finalmente abbiamo attivato in italia che si sta diciamo sempre di più strutturando per dare quei livelli di risposta agli installatori che noi vogliamo e che il marchio lgcam richiede